Non lo so, mi sembra un po' divertida di... Oh, ma che, i poliziotti mi sparano, non vale! No, guarda quanto è finocchio, prima... La scacchia! Sto caitando, sto caitando! Allora, con una mano di Mosh Turby... Rwalk, conviene a salvare dalla polizia, per favore. Che cos'ha lì sulle fottute montagne, pure tu? Però un po' lentino nel mio mezzo. Ma fai che cos'è qua? Che cazzo di mezzo? Aiuta! Ho paura! Aiuto! Eh, vabbè, vinto. Vabbè, che qua hai portato la polizia da me, mi compri me. Vabbè, no, non è possibile. Davide, io aspetto sempre il montaggio di me che faccio esplodere 20 macchine in 10 secondi. Posso? Mi stanno venendo dietro! Entra, entra dentro, entra dentro, porco giù! Entra dentro! Ok, non è possibile! Non ce la faccio per amare. Ok... Ok, d'accordo, puoi scendere? No! No, Dave! No, Dave! SONO VIVO! SONO VIVO! MAZZONNA CHE- PORCOD OH! NOO! 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 Non lo fanno Non lo fanno No Non lo fanno La rulletta è la rulletta Che cazzo Oh, è WART in teoria In pratica? Ma sai che io quasi quasi mi faccio le tabi? Vedo dei missili Bonjour, è capodanno fra Bonjour, bonjour Anno nuovo, 2021 Ok fra Ok, sese Ok, fermati così Ho accorciato Guarda qua come siamo fott Guarda fra, ci vinci Guarda, facciamo questi brindisi EEEEEEEE VIVO I'VE DENVER I'VE DENVER I'VE DENVER Io non lo fanno VADER Vabbè 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 I'VE DENVER I'VE DENVER questa colpa è ora che mi fanno io la colpa e poi ah dove si esce a questo posto di merda dove si esce? vado a prendere poca cazzotti ah credo fra voi credo fra voi oh oh ok perchè non? ah io tu sei studente tu sei una waller tu sei una capo oh 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 vengo un po' bene ma ma tu hai fatto fuggito tu hai fatto fuggito Eh 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 hai scelta te la che fare questa mattina si poteva in faccia su cazzo cazzo tu frate guarda la che sta venendo ma tu hai già fuggito oh 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 ok va già a pigliare in corso aia ma tu pari che si pari ti sto scumando ammazzato una volta ma questo asci mi è chiuso in sedia si è bello a pigliare la seconda ammazzata non c'è vicino delle palle aia ma tu stai ammazzato? aia ma tu stai ammazzato? stai ammazzato? stai ammazzato? stai ammazzato? stai ammazzato ma non c'è ammazzato oh! ti sto ammazzato non c'è la scuola invece di me non c'è ammazzato ma non c'è ammazzato oh! ti sto a destra un cacchio di palle aia ma tu stai ammazzato guarda tu stai ammazzato aia ma come puoi fare? aia ma tu hai visto chi stai parlando? di sotto non ho male ma ma tu ti sei pagato ai ricorso aia ma non c'è? aia ma tu non c slope tu puoi opera i calli si muove inondanza scemi vero e bradimo come sei un bar a te mario Oh frato, ragazzi, sui scemo, ragazzi, lo disfazzamo. Io me sai. Oh, frato. Aiuto, sbagliate, appalà, sbagliate, appalà. Ok, sbagliate. Vabbè, frato, vabbè, frato. Io gli sbagliate, c'è un ginocchio, la sci, la sci, la sci, la sci, la sci, la sci. Oh, oh, sei pazzuto, ragazzi, non chiede. buf frate! ma che bufo buf frate! buf frate che buf fai! buf frate! ha già fatto vedere una cosa ha già sbloccato una nuova pistola guarda qua! praticamente tu fai così poi stai vicino all'altro e succede questo! buf frate ma tu faccia vedere una cosa! e chi come ha neanche io hai visto la che fanno lo zumbi in aria? lo zumba o puoi chillerlo all'olimpiadi guarda lo faccio vedere qui guarda come sono fatto fai così ti ha ringorzato la terapia e poi fai la giusta no ua no frate per quanto non ci sono guarda io faccio vedere che mi abbatto il re fa vedere e boh ahahah buon ruolo guarda che mi faccio vedere qui tu vieni a ringorzato la terapia e poi fai così puh oh oh ma chi è questo scemo? io ti ho visto sopra eh si guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua puh guarda qua io sono forte puh furito ahahah 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 l'ultimo no ahahah ahahah cosa sta succedendo? mi è partita una cutscene pure a te? si con la musica sotto? si ma? ahahah cosa? perchè siamo a... ah penso che il modder era quello che stavo dando ma? ahahah ahahah questo è contro la mia volontà hello bitches ahahah vabbè andiamo a ballarmi qua wow frate il gruppo casino è stato lì che ti mamma mia ha morito vabbè dai siamo a riuscire a fare panera vabbè 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 mi ha fatto il casino ci ha ripirato il pish mamma mia che si vede i sogni tutta le smar oh i testi belli voglio non stanno in caccia mi ha fatto un crudo guarda strano qua qua vabbè 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 va a destra 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 ah sarà così risolto non mi ha capito proprio eh ho capito è nuda di genna ruba porco dio spamma di ocaa vabbè io qua faccio un double down ragazzi adesso faccio un double down che smascio il tavolo guarda 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 ma esce un asso guarda come si esce su giochi e merda aspetta quanto c'hai 17 no no stai stai guarda che si muove esce 10 guarda wow ti hai fatto in contemparagna con il 20 ma che ci faccio fatto un ubbirito fate con me che è sì vuoi sul mio mio papi